Riflettori e fari totalmente puntati che restano infatti super accesi su Armando Incarnato. Ci sono attacchi da tutte le parti, da ogni fronte, sì, per il Cavaliere e dallo studio televisivo di Maria De Filippi. Prima, prima di tutto, Aurora Tropea, dicendo Non sei umile? Hai 7000 manager ed è tutta una continua pubblicità. Lo sai perché stai ancora qui a scaldare la sedia? Perché quest'estate, non mi ricordo se a giugno oppure a luglio, hai tentato di fare il provino per il grande fratello Vip. E infatti, cari amici, dopo anche Pamela Barretta se ne esce e fa Il violento ha colpito ancora! Lui è stato violento un'altra volta. La situazione per Armando quindi non sembra voler migliorare, sì, non c'è nessun accenno. Alessandro Rosica maschera Armando Incarnato. Per Pamela Barretta gli atteggiamenti del Cavaliere sarebbero inqualificabili, un pensiero che sembra essere condiviso anche da parte del pubblico di uomini e donne con qualcuno che azzarda anche una punizione, la definitiva esclusione di Armando dal programma. E a sollevare un ulteriore polverone, ci ha pensato nelle ultime ore anche l'esperto di gossip e tv attraverso il proprio profilo social. Tutto ovviamente riguarda le dure accuse di Aurora sul conto del Cavaliere. A detta della dama, Armando avrebbe ingannato la redazione, ma ti hanno detto, mai, a te non ti prenderanno mai. L'hai fatto e ci metto la firma. Hai fatto pure il provino per l'isola dei famosi. Ma a dare il carico da mille anche Rosica che attraverso un messaggio sui social ha tentato di smascherare il Cavaliere e sottolineando le sue vere intenzioni, o presunte tali. È lì per mangiare a sbafo alle spalle del programma e continua a divertirsi con donne fuori. Nel programma non troverà mai una donna. Ha scritto ancora Rosica sulla sua pagina Instagram per poi aggiungere. Il suo obiettivo è ormai chiaro a tutti. Fare le scarpe a Gianni ed entrare al suo posto come opinionista. E come è accaduto in seguito alle dure accuse di Aurora, poi smentite dal Cavaliere in persona. Anche questa volta i fan del programma non fanno che attendere la replica di Incarnato. In ogni caso il pubblico non riesce ancora a dimenticare quanto accaduto in studio tra Incarnato e i Guarnieri. Coloro che erano presenti durante la registrazione hanno assistito a questo brutto diverbio tra i due cavalieri, che li ha poi portati a mettersi addirittura le mani addosso. La lite non è stata trasmessa, ma si apprende che gli animi sono riusciti a placarsi solo grazie all'intervento di Maria De Filippi. Come evolverà la situazione per il Cavaliere? Non resta che rimanere aggiornati. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto. Mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max. Ciao, un saluto da Max.